Prima di tutto bisogna posizionarsi su YouTube e sul filmato che si vuole scaricare. Poi con tre clic si evidenzia, uno, due, tre. Poi tasto destro del mouse, copia. Poi si va su Videolan. VLC Media Player. Videolan. VLC Media Player. Dopodiché si clicca su Media. Apri flusso di rete. Incollare qua. Tasto destro del mouse. Incolla. In questo caso paste. Poi riproduci. Parte il filmato. Si blocca. Poi si va su Strumenti. Informazioni codificatore. Si copia la posizione. Sempre con tre colpi di mouse. Tasto destro del mouse. Tasto destro del mouse. Copia. Chiudi. 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 Si va su il browser. Cioè su internet. Nella pagina. Della riga degli indirizzi. Che è questa qua in cima. Si incolla. Si incolla. Si incolla. Tasto destro del mouse. Incolla. Invio. Dopodiché. Dopodiché. Si blocca. Tasto destro del mouse. Tasto destro del mouse di nuovo. Pippo. Salva. Fatto.